Bagare in commissione alla Camera sulle nuove norme per le intercettazioni contenute nel provvedimento sul processo penale. Il Movimento 5 Stelle parla di legge Bavaglio. Claudia Manzola. A far scoppiare la protesta dei 5 Stelle in commissione giustizia alla Camera al lavoro sulla riforma del processo penale è la delega al governo sulle intercettazioni che non piace neanche a Selle e Lega e questo emendamento targato NCD che prevede fino a 4 anni di reclusione per chi diffonde riprese o registrazioni di conversazioni svolte in modo fraudolento. Una legge porcata che imbavaglia l'informazione secondo i grillini che lanciano l'allarme a rischio molte delle inchieste giornalistiche realizzate con la telecamera nascosta mentre Grillo via blog lancia l'ashtag No Bavaglio e alla fine tra le proteste l'emendamento passa. Mettere il bavaglio ai giornalisti e sanzionarli se pubblicano notizie vere. Il Movimento 5 Stelle è assolutamente contro questo bavaglio all'informazione e per sostenere la libertà di critica e di informazione in questo paese.